E quindi parliamo adesso della mitosi. La mitosi è il metodo con il quale le cellule generano due figlie geneticamente identiche ed è anche il modo con cui gli organismi assessuati si riproducono, creando dei figli geneticamente identici a se stessi. Di fatto gli organismi assessuati si riproducono per autoclonazione. Vediamo come funziona. La mitosi consiste in una fase in cui la cellula nasce con una sola copia del proprio corredo genetico, ogni cromosoma costituito da un singolo cromatida, e poi si ritrova nella parte finale dell'interfase con una doppia copia del proprio corredo genetico, quindi cromosomi costituiti da due cromatidi identici ciascuno. Una volta completata l'interfase con questo processo, la cellula comincia a separare i cromatidi dei singoli cromosomi, in modo da generare due cellule figlie, ciascuna con i cromosomi costituiti da un singolo cromatida. Quindi, alla fine del processo, ci ritroviamo con due cellule figlie, ciascuna con una copia singola del proprio corredo genetico, rappresentato da cromosomi costituiti da un singolo cromatida. La mitosi è il processo con cui la cellula madre genera due cellule figlie geneticamente identiche. La cellula madre, quando comincia la replicazione, ha un corredo genetico in doppia copia, e le due cellule figlie avranno un corredo genetico in singola copia. Quindi, sia la cellula madre che le cellule figlie avranno comunque un corredo genetico sempre diploide. Vediamo le fasi una per una e cominciamo dalla profase. Nella profase abbiamo cambiamenti nel nucleo e nel citoplasma. Nel nucleo il DNA si organizza a formare i cromosomi. Nel citoplasma si sviluppano i microtubuli del fuso mitodico, che, se vi ricordate dalle lezioni precedenti, è quell'organulo adibito proprio alla replicazione cellulare. Poi abbiamo la prometafase. In questa fase il nucleo si dissolve ed i cromosomi vengono collegati dai microtubuli del fuso mitodico attraverso il centriolo, che sarebbe la struttura proteica centrale del cromosoma, e cominciano a spostare i cromosomi allineandoli lungo l'equatore della cellula. Nella metafase i cromosomi allineati lungo l'equatore sono orientati lungo i poli della cellula e collegati appunto con i microtubuli del fuso mitodico. Questa è la fase più lunga della mitosi, e dove è possibile anche fotografare il cariotipo, ovvero l'insieme di tutto il corredo cromosomico di una cellula. Ne parleremo più tardi. Penultima è l'anafase, dove i due cromatidi fratelli per ogni cromosoma vengono separati e spostati verso i poli della cellula. Ora, ogni singolo cromatide diventa un singolo cromosoma. Alla fine del processo abbiamo due corredi genetici identici ma separati, quindi avremo il corredo genetico diploide fatto da cromosomi con un solo cromatido per cellula figlia, che ne esce fuori. E infine abbiamo la telofase e citodieresi. Anche se la citodieresi viene considerata come un processo a parte della mitosi, in realtà è proprio il processo finale in cui nella telofase si riformano i due nuclei attorno ai due corredi genetici separati precedentemente e la cellula si divide in due. Vedremo che questa divisione avverrà in modo diverso se la cellula è di tipo animale o vegetale. Una volta che anche l'ultima fase della mitosi si è completata, abbiamo la citodieresi. È la fase in cui ormai la cellula, che ha due nuclei ben separati, si divide in due cellule figlie. E lo fa in modo diverso nelle cellule vegetali e animali. Infatti le membrane delle cellule animali sono costituiti da lipidi, diversamente da quelle vegetali che invece sono fatti di cellulosa. Allora, in quelle animali abbiamo un filamento di microtuboli che crea un anello nella zona di separazione. Questo anello, stringendosi, comincia a creare un solco di divisione invaginando la membrana, fino a quando questo solco, stringendosi, non taglia la membrana in due completamente. La membrana tagliata si risalda formando due cellule figlie. Quindi qui abbiamo una struttura proteica di microfilamenti che stringe a mo' di cappio la membrana tagliandola. Ma lo può fare perché, essendo fatta di lipidi, la membrana plasmatica della cellula animale è molto flessibile. Al contrario, nella cellula vegetale abbiamo una membrana rigida fatta di cellulosa. In quel caso, dall'apparato di Golgi, arrivano delle vescicole ricche di cellulosa e altri polisaccaridi che letteralmente, piano piano, cominciano a costruire una vera e propria membrana, sempre digita, all'interno della cellula. Quando questa si salda con la prete esterna, la cellula si divide in due cellule figlie. Quindi abbiamo che la citodieresi ha un percorso completamente diverso tra la cellula animale e vegetale. Ma lo scopo ultimo è sempre lo stesso, dividere la cellula madre in due cellule figlie. Questo è solamente un estratto della lezione completa sulla replicazione cellulare. Nella lezione completa parlerò in dettaglio del ciclo cellulare delle cellule eucariote. Vedremo cosa succede quando questo ciclo cellulare non funziona bene e si possono sviluppare cellule tumorali. Vedremo come il materiale genetico all'interno della cellula viene ripartito durante questa fase molto delicata e quindi parleremo della differenza che c'è tra cromosomi omologhi e fratelli. E vedremo anche cosa succede quando ci sono degli errori nella replicazione delle cellule portando ad alcuni sindromi come la trisomia 21 che porta alla sindrome di Down. Questo ed altro ancora nella lezione completa la numero 5 del mio corso di biologia dedicata alla replicazione cellulare. Potete trovare questa lezione e tutto il corso di biologia nel mio canale YouTube e sulle mie pagine social, Instagram e Facebook Prof. Antonio Loiacono. Grazie